Mentre il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha firmato l'ordinanza che riguarda la proroga fino al 25 agosto della zona rossa all'ex caserma di via Cividale, alla luce dei nuovi casi di positività al Covid-19 registrati all'interno, continuano i rintracci di nuovi gruppi di migranti entrati in Italia attraverso la rotta balcanica nelle scorse ore nell'Interland di Udine. Alle porte del capoluogo i militari del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno intercettato 17 cittadini kurdi iracheni nella zona di via Mozambano all'incrocio con via Visco, alla periferia est della città. Del gruppo facevano parte alcuni bambini piccoli e tre donne, di cui una incinta. Per dare loro assistenza è intervenuta la Croce Rossa che poi li ha trasferiti alla foresteria del castello di Tricesimo. Sempre stamani sono stati rintracciati nella zona del mulino a Basaldella di Campoformi da alcuni cittadini indiani. Le operazioni di identificazione sono state perfezionate dalla polizia locale che ha identificato le cinque persone, tra loro una coppia la quale ha raccontato di essere fuggita dall'India perché impossibilitata sposarsi prima con un volo che li avrebbe portati in Serbia. Da lì poi a piedi avrebbero raggiunto Gorizia, il confine di Stato, per arrivare sempre a piedi fino in Friuli. Al termine delle procedure tutti i migranti sono stati ospitati in apposite strutture per la quarantena fiduciaria anti-Covid-19. Fuggiti altri dieci richiedenti asilo dal seminario di Castellereo sono stati denunciati dai carabinieri di Feletto. Infine nove cittadini macedoni sono stati denunciati per aver violato il divieto di ingresso nel territorio nazionale, sono stati intercettati dalla Polstrada a Pordenone a bordo di un furgone lungo un tratto della A28 in comune di Porcia. Gli occupanti del veicolo erano entrati in Italia provenienti da Cumanuovo in Macedonia per recarsi in Alto Adige per la raccolta di mele. Ultimati gli accertamenti, nove sono stati allontanati dal territorio nazionale.